E domani la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Pordenone. Intenso il lavoro delle Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza. Natascia Gargano e Andrea Rinaldi. Ultimi sopralluoghi in città per la visita di domani della Presidente del Consiglio a Pordenone. Giorgia Meloni sarà al Teatro Verdi per la firma dell'Accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e i Ministri Raffaele Fitto e Luca Ceriani. Inizio della cerimonia alle 15. La Presidente si sposterà poi in fiera per la visita alla manifestazione Orto Giardino prevista per le 16. Abbiamo già definito nei minimi dettagli le misure organizzative, di sicurezza, di viabilità e di cerimoniale. Oggi siamo qui con la Presidenza del Consiglio per definire gli ultimi aspetti ma ormai siamo in dirittura d'arrivo. Il Friuli e la città di Pordenone sono lieti di accogliere la Presidente del Consiglio e noi siamo felici di questo momento storico per la città e per tutto il territorio regionale. Per garantire l'ordine pubblico è in arrivo anche personale di rinforzo. In città sono previste manifestazioni di diversi comitati e associazioni. Ci saranno delle manifestazioni che verranno autorizzate. Queste manifestazioni si svolgeranno lontano dalle aree interdette, dalla zona rossa. E quindi è chiaro che bisogna garantire il diritto di manifestare liberamente ma naturalmente con delle prescrizioni e con dei limiti per garantire una cornice di sicurezza adeguata allo svolgimento della cerimonia.